Sì, è davvero necessario invitare questi ragazzi ad astenersi dal partecipare a queste eliti e soprattutto ad andare ad assistervi perché questo stiamo registrando, perché le persone coinvolte sono poche però ci sono molti ragazzi che vanno là e assistono a queste situazioni però assistendo a queste situazioni rischiano di essere coinvolte in situazioni più grandi di loro quindi ragazzi la forza è quella del pensiero, del ragionamento e del confronto la forza manifestata attraverso la forza fisica è debolezza quindi attenzione a non cadere in queste cose quindi evitate veramente questo tipo di incontro un appello che rivolgo anche ai genitori perché dobbiamo sensibilizzare i nostri ragazzi ad evitare di andare da questi appuntamenti che sono veramente deleteri finora non è successo nulla di grave perché siamo stati solerti e efficaci nell'intervenire sono già due settimane che come questore dispongo dei servizi appositi che sono servizi interforze fatti dalla Polizia di Stato con tutte le sue articolazioni dall'arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale grazie a questi servizi che abbiamo predisposto sabato scorso e sabato di due giorni fa abbiamo evitato il peggio